Vi raccomandate, ricevendo meno di mille slani della siglia e gli avvisi di giacenza e annuncia ricorso al caldo. Cos'è questa protesta? Cos'è questa protesta? Perché? 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 Mi spieghi perché? Continui! Ricizia in Buonapede e il 21 maggio l'ex direttore della filiale UbiBank, Marco Dilardi, non sa di essere intercettato, mi sembrava al telefono con il suo amico e cliente Alberto Diluba. Che c'è? Ah, è finito il pulletto. Devi fare una roba così, non puoi essere un po' più civile. Ti strusci, guarda lì. Adesso lo preparo, ma cosa ti strusci? Si struscia.